Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, mi sono reso conto di una cosa, allora io ho parlato più, più e più volte di quest'opera in due volumi che oramai conoscete quasi sicuramente meglio di me, ovvero sia la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943. Un'opera di Lucio Ceva e Andrea Curami edita dall'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'esercito. Un must, un'opera importantissima, un'opera estremamente chiara, un'opera indispensabile per capire come il nostro esercito è passato, diciamo, dal cavallo al carro armato nel corso della prima metà del ventesimo secolo e durante il secondo conflitto mondiale. Però non ho mai, come dire, parlato specificatamente dei nostri mezzi corazzati e vi chiedo scusa fin da ora. Allora, il nerbo principale delle nostre forze corazzate era questo che sicuramente conoscete meglio di tutti, il carro medio M1340. Eccolo qui, ok? Lo conoscete tutti, più o meno sapete tutti molto bene che questo qui fu il nerbo delle nostre forze corazzate durante la seconda guerra mondiale. L'immagine è tratta dal terzo volume della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco. Il testo viene, cioè, come dire, ovviamente le notizie vengono da quest'opera qua, invece. Allora, mettiamola così. Tra le due guerre, le forze corazzate del regio esercito italiano avevano tre tipi principali di carri armati. Quelli leggeri, i cosiddetti carri di lottura e i cosiddetti carri pesanti. Allora, tralasciando i carri pesanti Fiat 2000, dei quali ne vennero costruiti soltanto due esemplari, i mezzi rimanenti si badavano in pratica solo su due realizzazioni, ovvero sia il carro L3, il famoso carro leggero o carro veloce, e bisognerà che ne parlo anche di quello lì, e il carro di rottura M1139, il mediocre M1139. Allora, il primo non era altro che una postazione protetta e semovente di mitragliatrici, come ben sappiamo. Un porta mitragliatrici, poco di più, nient'altro. Il secondo, ovvero sia l'M1139, aveva il compito di sfondare la linea nemica per permettere l'accesso alle fanterie d'assalto. Per questo era stato dotato di un armamento che per il momento sembrava discreto, ovvero sia il cannone da 37,40 e due mitragliatrici da 8 mm. Allora, ci si rese però ben presto conto che il cannone non era per niente sufficiente per niente sufficiente per svolgere il necessario volume di fuoco. Già nel 1937 dove vai con un 37 mm? Vabbè, parliamone. Allora, e si decise di sostituirlo con un cannone più pesante e più potente che fosse messo in torretta e non in casa matta, come quello dell'M11. Da queste premesse, gli stabilimenti Ansaldo tirarono fuori lo M1340, presentato a febbraio del 1940 come prototipo e costruito in serie a partire dall'estate dello stesso anno, ovvero sia noi entrammo in guerra che lo M1340, eccolo qui di nuovo, era appena entrato in servizio con tutto quel che ne consegue. Ok? Allora, il carro era costruito sulla base meccanica dell'M11 e insomma aveva un motore leggermente più potente e la parte superiore dello scafo era stata completamente ridisegnata. Tolto il pezzo da 37 mm in casa matta e montato il pezzo da 47,32 in torretta. Il buon pezzo da 47,32 in torretta perché ricordiamoci il 47 mm italiano era un eccellente pezzo anticaro, era un eccellente pezzo d'artiglieria leggera e funzionava molto molto bene. Fino a tutto il 1942 era all'altezza della situazione, a parte che contro i T34, ma questo è tutto un altro discorso. Oltre al 47,32 in torretta c'erano anche due mitralettrici da 8 mm, una in torretta e una in casa matta. Lo scafo, come ben sapete, era costituito da piastre di acciaio imbulonate su una struttura rigida di profilati. La torretta ruotava per 360 gradi, era manovrabile sia manualmente che tramite un servomeccanismo oleodinamico che come forse ben ricorderete quando abbiamo parlato di certe relazioni era considerato superfluo e non veniva mai usato. Alcuni carri erano dotati di una ricetrasmittente Marelli RF1CA ed è da notare a questo punto che quando il carro entrò in linea in Africa settentrionale seppe reggere abbastanza bene il confronto con i mezzi inglesi perché ricordiamoci i carri cruiser inglesi e i carri perfanteria in Matilda non erano poi così superiori ai nostri carri M. Anzi, come ben sapete, certi cruiser, i cruiser o i crusader o anche i Matilda, avevano i loro bravi problemi. Non sempre erano all'altezza del compito ma sicuramente anche se i mezzi inglesi erano non troppo superiori ai nostri o quantomeno equivalenti ai nostri, gli inglesi sapevano usarli indubbiamente meglio nonostante i loro enormi limiti meccanici. Vedi il motore Nuffield Liberty ma va bene signori, continuiamo un attimo così. Allora, fino al 1942 i nostri carri M. Ressero più che bene il confronto con i carri alleati. Poi arrivarono prima i Grant e poi gli Sherman e i nostri poveri carri M furono spietatamente sorpassati. Allora, da questi carri, cioè dalla serie dei carri M, si svilupparono comunque altri due modelli, cioè l'M1441 e l'M1542. Allora, l'M14 avrà soltanto un motore potenziato, sempre diesel, mentre il secondo verrà modificato con un motore a benzina più potente e il pezzo da 4732 verrà sostituito col più potente e più efficace 4740. Ma oramai, oramai era tardi perché, perché anche il buon 4740 poteva fare decisamente poco contro gli Sherman e i Grant, per non parlare dei T-34. Allora, la corazzatura si dimostrerà sempre troppo leggera, come ho già spiegato in altri video, leggendo le relazioni degli esperti che esaminavano i danni. e questa corazzatura, insomma, i nostri carristi cercarono di compensare le mancanze della corazzatura dei nostri carri, ricoprendo gli scafi con sacchetti di terra e segmenti di cingoli di ricambio. Allora, dopo aver combattuto in Africa, dove nonostante tutto si dimostrarono piuttosto efficienti, e ripeto e sottolineo, nonostante tutto, nonostante i problemi dei motori, nonostante i problemi dell'impiantistica, nonostante le carenze addestrative dei nostri reparti carristi, gli M13 fecero molto più del loro dovere e i nostri carristi fecero molto più del loro dovere. Allora, dopo l'Africa, gli M13-40 parteciparono in patria agli scontri per la difesa di Roma. Allora, dopo l'8 settembre 1943, gli esemplari rimasti equipaggiarono le truppe corazzate della Repubblica Sociale Italiana. E dopo la guerra, alcuni carri presteranno ancora servizio per qualche tempo nel nuovo esercito italiano e nella polizia. I carri armati M13, M14 ed M15 destinati alla polizia avevano al posto del cannone da 47 mm una mitragliatrice da 8 mm per l'ordine pubblico. Allora, come vi ho già detto, come sapete, il carro M non era eccessivamente veloce perché aveva una velocità massima su strada di 30 km orari e di 12 km orari su terreno vario. E vi ho anche raccontato delle difficoltà affrontate per la manutenzione e soprattutto degli sforzi eccessivi a cui il povero motore Fiat, povero insomma, a cui il pessimo motore diesel Fiat era sottoposto. Ripeto, l'armamento era un cannone da 47 mm, avevano 3 o 4 mitragliatrici e nonostante tutto funzionava abbastanza bene. Il motore era un Fiat 8TM40, un diesel da 125 CV e oggettivamente 125 CV per 13 tonnellate sono decisamente pochi, se ci pensate. ma, ahimè, che vi devo dire, come più volte ho parlato citando questa fondamentale opera, l'accordo di cartello Ansaldo Fiat non permetteva soluzioni migliori e lo sappiamo fin troppo bene. Insomma, la serie dei nostri carri M, ok? Il nervo delle nostre forze corazzate durante la seconda guerra mondiale. Fecero fin troppo, lasciatevelo dire, fecero fin troppo e lo sapete fin troppo bene. Quindi, cari signori, come sempre vi ringrazio per l'attenzione, come sempre aspetto i vostri commenti, come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!